E allora tra pochissimo ritroveremo anche il collega Nicola Morcavallo per le ultime notizie ma prima vogliamo concentrarci su un rapporto molto importante e interessante perché l'Istituto Toniolo ha dato vita all'osservatorio giovani che realizza da oltre dieci anni il rapporto giovani la più approfondita ricerca italiana sull'universo giovanile con dati comparabili a livello internazionale. Allora questa mattina ne parliamo con la professoressa Dalila Raccagni assegnista in pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e collaboratrice dell'osservatorio giovani dell'Istituto Toniolo. Buongiorno professoressa benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora partiamo da quanti giovani e di qualità avete preso in esame? Allora ogni ricerca in realtà al suo interno ha un numero di giovani coinvolti che vengono sempre dichiarati. Le direi però che per le ricerche nazionali siamo nell'ordine di circa 2000 giovani di età compresa sempre tra i 18 e i 34 anni. Mentre per i giovani coinvolti a livello internazionale quali per esempio dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Spagna in caso di questo rapporto giovani siamo nell'ordine delle 1000 giovani. In realtà però poi abbiamo anche alcune ricerche di tipo qualitativo e dunque con un numero un po' più ristretto nell'ordine del centinaio. E allora professoressa quali sono i temi del rapporto? Allora in realtà provo a riassumerli in alcuni macro aree. Sicuramente il rapporto dei giovani con il mondo del lavoro, con il mondo della formazione, anche con un'attenzione specifica alla transizione alla vita adulta. I giovani e il progetto di vita, ma anche il rapporto dei giovani con la loro casa e con la casa natia. In realtà poi ogni anno abbiamo alcune attenzioni e alcune sensibilità. Per quest'anno abbiamo un'attenzione rivolta al tema della sostenibilità, alla partecipazione, ma anche al rapporto con l'intelligenza artificiale. Ecco allora, qual è, se è possibile riassumerla, perché immagino che il tema e il campo sia vastissimo, qual è la condizione giovanile nel nostro paese oggi? Allora, mi rifaccio alle parole in realtà di Alessandro Rosina, che è un docente di demografia e statistica in Università Cattolica ed è anche il coordinatore dell'assorbatorio giovani. E lui a sua volta riprende alcune parole spese da Mattarella nel tradizionale discorso di fine anni e in modo particolare in uno dei passaggi ha affermato che in realtà troppo spesso il nostro paese disconosce le attese delle nuove generazioni e soprattutto le fa sentire fuori posto. La questione dunque è proprio quella del posto. A confronto degli altri coetanei li abbiamo ancora in casa, abbiamo meno percorsi di formazione avanzata, li troviamo pochi nei contesti di lavoro, per cui diciamo una caratteristica appunto del fuori posto. E dunque un altro dei temi che voi avete sviluppato nel rapporto è il tema anche potremmo dire l'atteggiamento giovanile verso questo grande punto interrogativo, lo definirei così, dell'intelligenza artificiale. Noi più volte anche qui nel nostro programma abbiamo provato ad ascoltare le voci discordanti di chi definisce l'intelligenza artificiale un rischio e di chi la definisce un'opportunità. Però ora la domanda che ribalto a lei professoressa è i nostri giovani come la percepiscono l'intelligenza artificiale? Sono coscienti che può essere un'opportunità straordinaria che magari può anche, purtroppo come scrive qualcuno, eliminare dei posti di lavoro e dunque far diminuire quella che poi è l'offerta e dunque anche la disponibilità del mondo del lavoro. Ci aiuti un po' a capire la condizione giovanile da questo punto di vista? Allora nel rapporto giovani c'è proprio un capitolo dedicato a questo tema e tra le evidenze fornite emerge soprattutto un maggiore utilizzo, il riconoscimento di quelle che vengono definite le potenzialità, soprattutto se pensiamo all'opportunità di apprendimento con nuove modalità, per chi soprattutto è più giovane ma in realtà non proprio per i giovani italiani. Nel senso che gli italiani in questa ricerca si distinguono per una minor conoscenza, un minor utilizzo ma anche proprio un basso livello di percezione del rischio nel rapporto con l'intelligenza artificiale. Si tratta come affermano gli autori di questo capitolo di un dato che fa riflettere perché in realtà a differenza degli altri paesi coinvolti sembra emergere proprio un approccio fiduciario verso le tecnologie ma non sostenuto da una sperimentazione diretta di quelli che sono i limiti e delle potenzialità appunto dell'intelligenza artificiale. Questo ovviamente suggerisce la necessità di migliorare le occasioni soprattutto di formazione e di accompagnamento per un utilizzo poi che è consapevole. E infatti io a questo volevo arrivare professoressa perché magari manca proprio l'elemento formativo all'interno delle scuole, delle accademie, delle università su questo tema così fondamentale che ci riguarderà presumibilmente nei prossimi anni che sarà davvero in primissimo piano. E poi potremmo dire anche, non so se lei concorda, c'entra anche il tema del digital divide. Noi purtroppo scontiamo nel nostro paese una netta separazione tra chi magari ha un accesso tra virgolette illimitato ai temi del digitale e chi purtroppo non sa neanche accendere un computer. Forse estremizzo un po' ma serve un po' per chiarire il concetto. Sì, è una percezione reale. È una questione anche anagrafica. I giovani sanno maneggiare i device, li sperimentano. Il passaggio è proprio un utilizzo formativo per cui non solo è dedicato all'estemporaneità dell'utilizzo dello strumento per situazioni ma imparare a utilizzarlo e soprattutto avendo la possibilità di maneggiarlo con competenza utilizzerei. Per cui delle skills digitali che in qualche modo gli permettono poi di usare davvero quegli strumenti non a discapito di una competenza di tipo sociale e relazionale ma bensì appunto come strumento che la può anche favorire anche in proiezione del mondo del lavoro. Un altro tema professoressa è quello della transizione verde. Che significato viene attribuito dalle nuove generazioni alla sostenibilità ambientale e come si traduce in impegno quotidiano? Allora, anche negli scorsi anni è emersa un'evidenza di attenzione da parte delle nuove generazioni rispetto a questo tema. In realtà però se ci sono questi comportamenti abbiamo notato che non è scontato riuscire sempre a mettere coerentemente in atto in modo virtuoso poi le azioni e le pratiche. Nonostante però appunto una crescente sensibilità proprio sul tema e l'urgenza che si pone. In particolare in realtà è interessante osservare che nei contesti a bassa urbanizzazione gli adolescenti riferiscono di parlare molto con le persone appunto del tema della sostenibilità. E l'appartenere tra i contesti sembra appunto permettere una maggiore sensibilità anche una responsabilizzazione connessa poi anche a un maggiore attaccamento ai territori perché la questione va di pari passo. In realtà però c'è una discrepanza abbiamo visto anche tramite questa ricerca tra l'impegno e il pensiero e le motivazioni sono varie. Abbiamo una mancanza di informazione e di conoscenza a volte anche sui comportamenti sostenibili. Abbiamo a volte la mancanza di risorse economiche e di tempo per mettere in atto poi queste azioni e questi comportamenti. E anche a volte la presenza di ostacoli che definirei sociali e culturali che rendono a volte difficile l'agire in modo collettivo. Nonostante questo però c'è una forte assunzione da parte dei giorni di responsabilità rispetto al tema. Per chiudere professoressa, l'Italia dunque è un paese per giovani? Allora anche qui mi riprendo sempre alle parole di Rosina il quale secondo me riassume e sa dare una risposta efficace. Lui dice che da un lato le attenzioni e le parole spese per i giovani fanno capire alle nuove generazioni che c'è un'attenzione nei loro confronti. Dall'altro però lì si fanno sentire fuori posto e dunque questo conferma che rimane debole e inadeguata la capacità del sistema paese di renderli parte attiva e qualificata nei processi poi di cambiamento sociale ma anche di conseguenza economico. E la situazione in Europa com'è rispetto all'Italia? Perché proprio di qualche giorno fa la notizia è che per 17 giovani che lasciano il nostro paese, che vanno in Europa a lavorare o a formarsi, ce n'è uno che arriva in Italia. Quindi insomma sono dati che fanno riflettere. Quindi in Europa com'è la situazione giovanile? Allora mi limito ai paesi europei che noi abbiamo preso in esame, come Germania, Spagna, la Francia e il Regno Unito. La percezione in realtà è che i coetanei degli altri paesi europei trovano strumenti più efficaci, intesi proprio come parte integrante di quelle politiche di sviluppo che il paese poi mette in atto. Sono strumenti più efficaci per formarsi bene, per entrare in tempi e modi adeguati nel mondo del lavoro, per accedere ad un'abitazione, ma per trovare anche una valorizzazione del loro capitale umano all'interno poi delle aziende e dei contesti di sviluppo. E dunque evitando una generalizzazione mi verrebbe da dire che la percezione è che siano qualche passo e più in là. Ci sia un'attenzione che non è solo spesa parole, ma che poi diventa pratica quotidiana e vissuto di questi giovani. Sono parole importanti, le sue professoressa, che in qualche maniera ci restituiscono ancora una volta una fotografia in chiaro scuro della nostra nazione, del nostro paese, che speriamo possa migliorare il più presto possibile anche attraverso le decisioni di chi è abilitato a prenderle tali decisioni. Noi nel frattempo la ringraziamo per essere stata con noi e auspichiamo che nel prossimo futuro possiamo continuare a parlare dei giovani attraverso il vostro prezioso contributo. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore a voi, arrivederci. Arrivederci, dunque l'Italia è un paese per giovani, Paola la risposta è nì, potremmo dire in qualche modo. E purtroppo la fotografia che ci viene restituita attraverso questo rapporto dell'Istituto Toniolo, dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, è un ulteriore tassello a quel mosaico che abbiamo già iniziato a comporre da diverse settimane. Tant'è, ora dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.